Musica Dobbiamo affrontare con decisione i rifiuti in questa provincia, non possiamo più tergiversare e quindi oggi era il primo incontro dopo che c'è stata l'elezione del Presidente per farci una discussione, per capire operativamente come dobbiamo andare avanti da qui penso che una settimana, dieci giorni faremo un ulteriore incontro facendo la convocazione come giusto che sia, portando gli argomenti all'ordine del giorno e quindi cercando di trovare una sede dove ci sarà pure qualcuno che verbalizzerà, quindi sarà qualche funzionario o qualche dirigente del comune di Avellino, della provincia Il suo pensiero su questi ricorsi al TAR per l'impianto di Chianche? È il solido giro che si fa, le solide cose, i rifiuti noi li produciamo, se non vogliamo di nuovo mangiarci e li dobbiamo per forza mettere in piedi gli impianti Io l'ho detto, voglio a questo punto, come abbiamo condiviso con l'intero Consiglio del Nato valutare a 360 gradi le proposte che ci sono oggi sul tavolo cioè compostaggio di comunità, compostaggio di famiglia, impianti che dovranno essere fatti e dobbiamo decidere su una strategia condivisa con i territori per arrivare a una soluzione Noi dobbiamo uscire fuori da questa emergenza e se lo stir dovrà essere aperto dovrà essere aperto nel massimo della sicurezza possibile questo è ben chiaro a tutti quanti perché nessuno vuole aprire un impianto che magari non funziona bene quindi dobbiamo avere la certezza che nel momento in cui lo apriamo chiunque poi verrà a reclamare o a manifestare sa che quello è un impianto che funziona e funziona bene secondo norme, secondo la legge Grazie 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 Grazie